Buon salve a tutti, io sono Roberta e questo è il primo video che registro dopo due settimane in Sardegna. Quindi sono un attimo arrugginita, ma oggi volevo parlare di un argomento per me troppo importante e quindi non potevo rimandare oltre, ne volevo parlare oggi, quindi al massimo poi pubblico un video di giovedì e uno di domenica, ma era importante. Durante questi ultimi giorni si è parlato molto di femminismo, di misoginia e anche di homo-bitransfobia. E siccome è un argomento complesso e lungo, vi chiedo due cose. Uno, di avere pazienza, perché appunto è un video lungo e se non lo sentite per intero non si capisce quello che voglio dire, quindi state attenti a quello che dico e non fraintendetemi. E la seconda, nei commenti mantenete un tono educato, qualsiasi tipo di insulto verrà rimosso. Perché uno, la vostra libertà di parola ha un limite, che è sancito anche dalla Costituzione ed è la libertà altrui. E secondo, YouTube mi obbliga a fare la moderazione dei commenti, altrimenti ci smeno io. Quindi, quindi state attenti, so che siete delle persone abbastanza intelligenti da capire che insultando non si risolve niente. E iniziamo col video. Tutto partito da un tweet di Barbie Xanax, che potete vedere a schermo. Questo tweet qua, questo tweet, in sé per sé, non aveva un intento cattivo. Infatti poi Barbie Xanax ha dovuto spiegarlo. E l'intento non era male, nel senso che cosa vuol dire? Martha semplicemente voleva far risaltare come tantissime persone sui social descrivano il mondo reale come qualcosa di estremamente pericoloso in cui rischi da un momento all'altro di morire. Ed è così, da un certo punto di vista, dall'altro punto di vista, crearsi questa paura, che ripeto è fondata, non ti aiuta a vivere. Questo era il concetto che poteva essere buono. Ma l'ultima frase che dà delle psicotiche alle persone che la vivono così è non solo fuorviante, ma anche maleducata nel confronto del lettore o di quelle persone lì. Perché non sai nessuno per dirlo. È un termine uno medico, due, non è psicosi. Tutte le donne sanno, e non solo le donne, che il mondo fuori è cattivo e che si rischia sempre a girare da soli nei piccoli bui, soprattutto le donne. La libertà di uscire senza pensieri c'è, esiste, e c'è anche la libertà di uscire con preoccupazione. Quindi assolutamente insultarsi non va più. Ovviamente su Twitter si è generato un polverone, che è nettamente peggiorato quando Valentina Nappi, ovvero la famosa porno star, si è messa in mezzo. Devo dire che Valentina Nappi ha questo fare da troll, quindi dice le cose che, spero, spero, secondo me non pensa veramente, se le pensa è grave. E il problema principale è che c'è una sfilza di uomini nei suoi commenti che però a quelle parole ci credono davvero e le sostengono e dicono se anche una donna come Valentina Nappi lo dice, vuol dire che le altre ragazze non hanno capito nulla. Ed è veramente problematico. Vi lascio i tweet in sovraimpressione, sono veramente problematici, non so neanche dove iniziare l'analisi. Vi lascio a voi le vostre conclusioni. Credo che la parte peggiore sia quando dice che una persona che si sta masturbando in treno davanti a te, rispondendo quindi a una vittima di molestia, insultandola, sia la cosa peggiore. Perché dare la colpa a una vittima di molestia, che è un reato riconosciuto dalla Costituzione, dal codice penale, fuori di testa perché stai, uno, giustificando un reato, due, stai dando la colpa alla vittima. Veramente non c'è fine al peggio in questi tweet. E quindi già il femminismo in questi giorni ci ha dato del suo, perché era un argomento hot. Ma poi è saltato fuori un fatto di cronaca particolarmente grave, in cui il giornalismo ha dato del suo peggio, veramente. Ognuno ha dato del suo peggio in queste settimane. Avrete probabilmente sentito parlare di Maria Paola e Ciro, una coppia che semplicemente stava passeggiando sul suo scooter, che è stata inseguita dal fidanzato di Maria Paola, che ha speronato la coppia facendola cadere dallo scooter, e Maria Paola è tragicamente morta. Ma perché il fratello di questa ragazza è andato a speronarle causando la morte della sorella? Perché Ciro è un uomo trans, quindi è nato donna. E sostanzialmente il fratello di Maria Paola ha in sé un grado di misoginia e di transfobia veramente assurdo. Tutta la famiglia della ragazza dice e pensa che Ciro sia una donna. Infatti viene definita Maria Paola come una ragazza omosessuale che sta con una femmina, e secondo la famiglia è sbagliato che due femmine stiano assieme. Rivelando quindi un'omotransfobia veramente senza fondo. E in particolare il fratello è veramente assurdo, perché lui pensa di avere il potere sulla vita della sorella, di poter decidere lui. Lui nelle interviste ha dichiarato che non voleva ucciderla, voleva semplicemente darle una lezione. Ma chi sei tu per farlo? Questa ragazza era maggiorenne, fa quello che vuole, sta con chi vuole. Chi sei tu per decidere che lei non deve farlo? O pensare di doverla rimproverare e punire per questo? È una persona adulta, tu non hai il minimo potere su di lei. E questa cosa deriva dalla cultura patriarcale, perché l'uomo, il padre, il fratello solitamente, pensavano di avere il potere sulla famiglia, e lo avevano effettivamente in quel tempo. Ma ora siamo nel 2020, esiste l'egualitarismo di genere, almeno su carta. Quindi tu cosa stavi pensando in quel momento di poter decidere per tua sorella? E soprattutto, la cosa è ancora più grave, perché tu rifiuti di riconoscere che quella è una coppia etero tra un uomo e una donna. Non mi interessa se tu pensi che quella persona sia nata donna e che quindi rimanga donna qualsiasi cosa faccia. Non mi interessa perché tu sbagli. Se ci sono dei dottori, degli psicologi, degli psichiatri che ti dicono il contrario, tu non sei nessuno per l'andargli contro. A Ciro e a tutti i professionisti che l'hanno seguito. Ma andiamo avanti, perché avrai veramente troppi epiteti da tirare dietro a questo personaggio. La cosa peggiore, oltre al danno, la beffa. Gran parte dei giornali e dei telegiornali più importanti d'Italia, come per esempio La Repubblica, ha riportato la notizia facendo passare Ciro per una donna. Utilizzando il femminile, definendono la compagna di Maria Paola, che Maria Paola fosse lesbica, che fosse in una relazione omosessuale, oppure definendo Ciro l'amica, o peggio ancora, l'amica che da qualche tempo si faceva chiamare Ciro. Al telegiornale hanno detto Cira, la compagna di Maria Paola, ed è veramente schifoso. Questo non è giornalismo. Questa è pura ignoranza. E si riversa nei nostri giornali, nei nostri telegiornali, in televisione, modificando anche l'opinione pubblica. Chissà quanta gente che non ha a cuore la questione pensa che Ciro sia una donna. Solo adesso si inizia a correggere il tiro perché le persone hanno fatto clamore. E hanno fatto bene a far clamore. Perché questa è transfobia. Ed è assurdo che il movente del crimine fosse l'omobifra transfobia e che i telegiornali e i giornali abbiano fatto lo stesso lavoro. Ciro non è morto. Quindi Ciro adesso sta leggendo tutte queste cose dove viene misgenderato. Dalla mattina alla sera. Io non ho veramente idea questo ragazzo poverino quanta disforia stia provando adesso e quanto stia soffrendo. Non solo gli hanno ucciso la ragazza, lo hanno pestato per chi è e con quale persona stesse, ma anche i telegiornali non hanno avuto il rispetto di trovare cinque secondi e vedere che lui fosse un uomo trans e che quindi adesso sia un uomo. Non hanno avuto il rispetto di trovare un minuto per leggere i propri articoli e trasformare tutte le A in O. In Italia purtroppo siamo ancora troppo ignoranti sul tema. Per questo è bene parlare di femminismo e comunità LGBT+. È importante per questo perché queste cose passano in sordina. Ed è la comunità LGBT stessa che deve urlare per farsi sentire perché se parlasse normalmente qui tira una frecciatina velata chi coglie coglie se le persone si sedessero a un tavolo e parlassero a livello rappresentativo quindi rappresentando una minoranza ci sono veramente poche persone rispetto alla maggioranza la loro voce non si sentirebbe. Per questo c'è bisogno di far polemica di fare video YouTube di parlare sui social. Secondo me la denuncia sociale è molto importante per le minoranze perché solo così possono ottenere qualcosa. Quindi non sottovalutateci non diteci che stiamo facendo qualcosa di inutile perché magari per voi è inutile ma una persona anche su un milione che sente la nostra voce e magari cambia opinione anche se leggermente per noi è una vittoria. Non è inutile parlarne e come finale del video vi ricordo che tutto quello di cui ho parlato fa schifo dai tweet della Nappi agli articoli di giornale al crimine in sé alla nostra società. Ricordatevelo magari pensateci ogni tanto. Vi invito a non tacere quando vedete qualcosa che non vi piace e che non è rispettoso verso le altre persone e vi auguro una buona giornata sostanzialmente. Grazie mille per aver sorbito questo sclero che però è molto importante per me. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ciao bimbi belli! Noi ci rivediamo Bueno. Noi ci rivediamo